Il Sette Rosa vola in finale nel torneo olimpico di palanuoto femminile. Le azzurre a Rio de Janeiro hanno battuto la Russia per 12 a 9 e ora si giocheranno l'oro che manca da 12 anni con la vincente di Ungheria-Stati Uniti. Non è stato semplice grazie a sostegno arrivato dall'Italia, ha detto il CT Fabio Conti. L'attesa è ora per la pala a volo maschile. Gli azzurri alle 23 scendono in campo nei quarti di finale contro l'Iran. Torna intanto in pista questa notte USA in Nebolt. L'uomo più veloce del mondo affronterà la semifinale dei 200 metri, in gara a cui partecipa anche l'Azzurro Matteo Galvan.